Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, sabato 26 febbraio, non so da voi ma dalle mie parti è tornato l'inverno, dopo giorni e giorni di primavera, adesso sembra essere tornato l'inverno pieno, comunque noi si va avanti e speriamo che presto arrivi la primavera anche per i football, perché, sapete benissimo, la versione 1.0.0 di football, Konami l'ha annunciata per primavera. Allora, c'è un indizio, più che un indizio, c'è un elemento che ci fa pensare, io ringrazio caldamente Daniele, Alessandro ed Enzo Perri, Daniele me l'ha segnalato in live ieri sera, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, invece Enzo me l'ha segnalato per messaggio privato. Ovvero, ieri, non so se avete letto in zona community, Konami ha rilasciato 10.000 GP in regalo a tutti gli utenti, perché? Perché sostanzialmente ci sono dei problemi di sincronizzazione nei risultati delle campagne di football tra quelli che sono i risultati reali e che trovate nel sito e invece quelli che sono i risultati che sono presenti in sintesi della partita, che presentano delle cose non corrette. So che a molti di voi non interessano questi 10.000 GP che sono arrivati, ma ci interessa un'altra cosa. Allora, come potete vedere, quelle scuse dell'amministratore 10.000 GP possono essere ripresi entro 58 giorni e 18 ore. Era ieri, 25 febbraio. Facendo due conti, la possibilità di riscattare questi 10.000 GP finisce il 25 abrile, lunedì 25 abrile. Che da noi è festa, in Giappone no, perché è una ricorrenza italiana. E neanche in nessun altro paese il 25 abrile è una ricorrenza italiana. Quindi, sia Alessandro, sia Daniele Alessandro, sia Enzo, mi hanno fatto riflettere sul fatto che potrebbe essere questa la data di rilascio di Creative Teams e della versione 1.0.0 di Football 2022. Ora, certezze io non ne posso dare come neanche i ragazzi le possono dare. È un ragionamento, perché probabilmente questo premio è legato a questo momento, diciamo, di Demo Plus, di campagne pre-season. Il ragionamento, come dire, non fa una piega. Poi dopo, ovviamente, oltre al ragionamento ci sono le dinamiche di Konami. Però, diciamo questo, il 25 abrile è di lunedì, giorno che comunque spesso porta gli aggiornamenti anche in eFootball, come li portava in PES 2021. Ricordate, da qualche anno Konami aggiornava il lunedì e il giovedì. Si tratterebbe di aprile, perché, come vi ho detto, sostanzialmente io sono convinto che non esce prima di aprile, perché l'anno fiscale per le aziende inizia ad aprile. E quindi i football 2022 inizierà ad essere remunerativo per Konami da quando ci saranno le microtransazioni, eccetera. Quindi non avrebbe senso farlo uscire a marzo. Si spera che non esca neppure a maggio. Siccome qui i tempi sono sempre molto lunghi, lunedì 25 aprile sembra un pochino essere una data, non vi dico certa, assolutamente, men che meno ufficiale, una data probabile, plausibile. E questo elemento ci fa ulteriormente pensare che potrebbe essere la data giusta. Ora, ribadisco, non si capisce perché altrimenti dovrebbero mettere questa finestra. L'altra possibilità è che si concluda la finestra e il giovedì dopo esca la modalità Creative Teams, che sarebbe, scusate, devo cercare nel calendario, il 28 aprile. Comunque, secondo me è un'ipotesi molto plausibile. Dal 25 aprile al 28 aprile potrebbe uscire questa benedetta modalità Creative Teams e quindi ci abbiamo ancora di fronte a noi poco meno di due mesi. Poi, ribadisco, è un ragionamento fatto da due amici della community, che io sposo in pieno, ma che né io, né Enzo, né Daniele possiamo assolutamente confermare in alcun modo. È un ragionamento, un'ipotesi deduttiva, cioè deduciamo che essendoci questa data termina tra 58 giorni e 18 ore potrebbe significare che in quel momento uscirà Creative Teams. È plausibile, lo ribadisco, è plausibile, ma né certo né sicuro e men che meno ufficiale. Vedremo, vedremo se i ragazzi ci hanno visto giusto, li ringrazio ancora per la segnalazione, vedremo se sarà così, ribadisco, a me gira tutto bene, diciamo, nel ragionamento e nella deduzione, però c'è sempre la variabile K, ovvero la variabile Konami, che è abbastanza difficile sempre da leggere e da tradurre poi in ipotesi. Staremo a vedere, comunque, per me è molto plausibile, ecco, dico così, se mi chiedete una percentuale io dico 80%, ma, ripeto, tanto per giocare, perché poi dopo, anche se dico 99%, poi sta sempre, come al solito, tutto nelle mani di Konami. Staremo a vedere, staremo a vedere. Io ringrazio per l'attenzione, ringrazio i ragazzi che mi hanno segnalato questa cosa, ringrazio tutti coloro che ieri hanno partecipato alla live per festeggiare non i 10.000 GP, ma i 10.000 iscritti al canale. Se voi ancora non siete iscritti, diventate il numero 10.004, abbiamo già superato quota 10.000, 10.005, 10.006 e fra qualche mese, magari, festeggiamo i 15.000 iscritti. Grazie per l'attenzione e al prossimo video fatemi sapere se voi reputate plausibile questa ipotesi. Ciao!